Sai da dove viene il prosciutto? Dal porcello Dal porcello? Alla coppia Pamela, sai da dove viene il prosciutto? No Dalla coppia Fa questo verso Il maiale E non gli fa male al maiale se gli taglia nel prosciutto? No Sì, no Tagliano la pelle? Sì, che si gli fa male Perché è giusto che gli facciamo male al maiale? Perché lo vogliono mangiare il prosciutto A te non dispiaceva che muore? Sì Uffa E perché lo mangi? Perché mi piace La dispiace quando ti coppa il porcello? Per me igra alla image Perché quando ti si rievi un po sle protection Fa su salumeria Come mai can la scibone? Lei è uomo perché non mi spiace la giù Con sang, peber, ai e voi Nostrangen Dopo tu ci dite ognuno non si vedi più attraverso allora il respiro è un problema però non si vedi come l'interno non si vedi il sistema che si vedi cioè che i giù si morano che, si le spiore che vuoi provoca? quindi che vuoi fare? non mi auguro da fare i risultato? da cosa Cosa è che? Cosa è che? Ma che porre che raccate da porre che le? Perché ci sono da porre che? Cosa? Da me porre che mi porre in un po' di ristorante e da me raccoglierebbe molto bene E da porre che ci sono amici Ecco, adesso dopo tutto il mio lavoro che facci, da 10 ore mesi poi sta in vendita Quanto costa il presso? Il presso costa 150 letti Grazie Nini La buong? La buong, io stai la provate Provele, ti ho detto se le buong si o no Se ti ho detto se le buong si o no Se ti ho detto se le buong o se le mega buong Si le buong Le buong, ti ho detto una fetta o ti è contenta di una? È contenta di una? Bravo!